Ciao, io sono Elia Calò, ben ritrovato al giardino sotto il naso, ci troviamo qui nel Bar Mita e siamo pronti per un nuovo interessante episodio. In questo video ti voglio parlare di come creare un Daiquiri alle Nespoli, visto con frutto insomma di stagione. Io sono un bartender professionista, appassionato e studioso di erbe spontanee, ideatore di amaro satio, liquore pineta, vermouth meat, liquore foie e liquore fenù. Trovi tutti i dettagli sulle nostre bottiglie selvatiche sul nostro e-commerce www.mitaspiris.com. Ma ora andiamo a scoprire come preparare il nostro Daiquiri alle Nespoli. Sigla! Bene, prima di cominciare mi raccomando iscriviti al canale e clicca sulla campanella. Dindon! Ti invito anche a dare un'occhiata anche agli altri nostri canali social Instagram e Facebook sempre con il nome Il Giardino Sotto Il Naso. Ti invito anche a dare un'occhiata a tutte le descrizioni dei nostri video perché oltre alla descrizione del video stesso trovi anche eventuali aggiornamenti. Ma veniamo a noi. Siamo insomma all'inizio proprio dell'estate, in realtà siamo alla fine della primavera, all'inizio dell'estate, le Nespole sono pronte e le Nespole come molta frutta diciamo di questo periodo sono dei frutti delicati, quindi vanno raccolti e diciamo difficilmente le si trova anche sul mercato perché sono un po' delicate, quindi bisognerebbe raccogliere un pochino prima perché maturano molto velocemente, quindi quelli sono praticamente i frutti che vanno raccolti e mangiati direttamente dall'albero. Detto questo noi abbiamo degli alberi di Nespole qui nella nostra campagna. La varietà dell'albero che abbiamo noi in questo caso è la Mespilus germanica, giusto così per essere insomma più precisi. Perché mi è venuta in mente questa ricetta? Perché insomma è bella fresca e comunque può essere diciamo preparata davanti al cliente, soprattutto se abbiamo un pochino di tempo, nel senso se abbiamo delle situazioni dove abbiamo un pochino di interazione con il cliente, è chiaro che in un drink diciamo in una situazione tipo da discoteca questa cosa qui non la possiamo fare, però invece se abbiamo diciamo la possibilità di poterlo fare con più tranquillità io direi che è un drink che possiamo tranquillamente proporre perché è un po' inusuale. Il gusto della Nespola è dolce, non esageratamente dolce ma è leggermente acidulo. Anche qui a questo proposito ti consiglio, scegli tu se è il grado di acidità della 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 raccolta della Nespola perché più è diciamo giallo scuro più tenderà ad essere dolce fondamentalmente. Quindi se vai invece un po' più sul verdino sarà un po' più acidula. In realtà non ti preoccupare se per esempio vorresti un drink un po' più acidulo e le Nespola invece sono molto mature, puoi a quel punto correggere in fase di miscelazione con un goccio di succo di limone o succo di lime, insomma quello che utilizzi tu di solito. Questa è una premessa un po' lunga però è giusto così per capirci. A questo punto qui la ricetta è classico daikiri o daikiri a seconda della pronuncia, quindi la base è rum bianco e il rum bianco viene utilizzato soprattutto per i drink a base frutta, quindi per i drink fruttati il rum si sposa molto bene, il rum bianco in questo caso. Oppure dovresti andare di vodka che è un po' più innetro fondamentalmente. Andremo a rendere questo drink un po' più diciamo leggero, un po' più beverino perché appunto ci stiamo avvicinando a delle giornate molto calde, in realtà sta già facendo molto caldo adesso. Quindi io andrò a fare, ad utilizzare un, anziché succo di limone, succo di lime e sciroppo di zucchero, andrò a fare uno sweet and sour light che è una vecchia ricetta che io ho registrato troverai comunque il link qui sopra. Lo sweet and sour light, a differenza dello sweet and sour diciamo tradizionale, ha due parti di acqua, quindi è una parte di succo di limone, una parte di sciroppo di zucchero e due parti di acqua. Questo rende questo premix un po' più leggero e di conseguenza allunga un pochino il drink e lo rende appunto più beverino. Gli ingredienti quindi sono 5 cl di rum bianco, 6 cl di sweet and sour light e poi andremo a mettere come elemento aromatizzante 3-4 nespole non di più. Quindi la prima cosa da fare prima di cominciare a fare il drink è andare a raccolare le nespole. Quindi facciamo un salto nella nostra campagna. Ed eccoci qui, siamo in campagna, questo è un bel alberello di nespole che sono belle e mature. Andiamo a prendere quelle un po' più mature in questo caso perché ci servono un po' più dolci. Se nel caso volessi invece ottenere una miscela un po' più acidula si facciamo riprendere quelle leggermente più verdine diciamo, o meglio meno arancioni. Ed eccoci qui, il nostro cestino di nespole è ritornato, andiamo a questo punto a pulirle. Questo è un altro punto diciamo a sfavore delle nespole, ecco perché appunto non si trovano facilmente sul mercato, perché una volta pulite tendono ad imbrunirsi, quindi il processo di imbrunimento, di ossidazione chiamiamola così, tende ad essere abbastanza accelerato. Quindi io in questo caso qualche minuto fa ho pelato una nespola e l'ho appunto, gli ho tolto le bucce e la parte diciamo centrale e come vedi ho fatto un'operazione aggiuntiva, le ho immerse nel succo di limone. Questo ha fatto sì che il processo di imbrunimento fosse un po' più rallentato, infatti se osservi la differenza fra le bucce e la polpa, questa qui è già tendente al marroncino. Quindi una buona soluzione è quella magari se ti vuoi portare avanti un pochino il lavoro, ti peli le nespole e le puoi tenere anche un pochino in una soluzione acida, oppure la puoi immergere nel succo di limone, puoi utilizzare anche tipo quelle soluzioni che si usano per mantenere la frutta della macedonia e bella viva. Comunque una soluzione acida va più che bene. Procediamo quindi a pulire 3-4 nespola, io ti consiglio di utilizzare uno spelucchino, lo spelucchino ha questo appunto un po' ricurva che ti facilita la pulizia e la lavorazione di questo tipo di frutto. Andiamo semplicemente a pelare, se il frutto è maturo la pelle viene via abbastanza velocemente. Bene, a questo punto vado ad immergere i miei pezzettini così abbiamo un pochino più di tempo e non abbiamo lo stress diciamo della lavorazione veloce. Semplicemente li immergo nel limone, in questo caso riusciremo a rallentare il processo ossidativo. Perfetto, li ho messi tutti. Aspetta aspetta, sto sentendo qualcuno che dice ha pulito le nespole senza guanti. Ragazzi io sono a casa mia, quindi è un drink che sto preparando per me in questo caso, quindi è chiaro che se avete un cliente davanti vi consiglio appunto di utilizzare tutte le regole igieniche al 100% e chiaramente utilizzate anche i guanti perché è sicuramente più carino e più elegante. Bene, a questo punto abbiamo tutti gli ingredienti, succo di limone spremuto fresco, lo sciroppo di zucchero, abbiamo anche dell'acqua per allungare il nostro sweet and sour, il bicchiere l'abbiamo raffreddato quindi andiamo a prepararci per la shakerata. Perfetto, nel frattempo andiamo a pestare le nostre nespole per far sì appunto che esca tutto il succo perché con la shakerata soltanto faremo un po' di difficoltà. Come ho detto 3-4 nespole insomma non è un problema. Non ti preoccupare se rimane qualche pezzettino dentro, stai tranquillo tanto poi faremo il doppio, la doppia filtrata con il double straining appunto. andiamo a questo punto a mettere un cl e mezzo di succo di limone, un cl e mezzo di sciroppo di zucchero 1 a 1 e 3 cl di acqua, io in questo caso lo risciacquo. Perfetto, a questo punto andiamo ad assaggiare la nostra miscela per vedere se dobbiamo correggerlo o meno. Questo è il punto critico in cui se abbiamo le nespole che magari sono mature ma non troppo mature, vogliamo un po' più acido, un po' più dolce eccetera eccetera, è il punto in cui possiamo correggere la nostra ricetta. Per me è un po' dolciastro quindi ci aggiungerei poco poco di succo di limone e altro, un cl ancora. Bene! Perfetto! Il nostro drink è bello e pronto, ha un bel colore aranciato che richiama appunto il frutto utilizzato, e siamo pronti per il servizio. Bene, a questo punto andiamo a servire il nostro drink con una decorazione molto semplice che richiama appunto quello che c'è all'interno e magari perché no mettere una nespola e una fogliolina giusto così per dargli un colore un po' un tocco un po' più colorato. E il nostro day guitar all'inespole è bello e pronto. Alla salute! Bene, se ti è piaciuto questo video mi raccomando un bel pollice in su, commenta e condividi con i tuoi amici in questo modo mi darai la possibilità di continuare a crescere e a darti maggiore contenuto gratuito. Approfitta dei commenti per scrivermi se c'è magari qualche argomento che vorresti approfondire e mi raccomando iscriviti al canale e clicca sulla campanella, in questo modo rimarrai sempre aggiornato e non ti perderai neanche un episodio. Non risalto che dici, ci vediamo presto! Anzi, prestissima! Allora, ciao!